caro pubblico di mister topolini io sono mistero che sono prontissimo per iniziare questa decima edizione decima edizione quindi quanti anni è che siamo insomma sul campo 15 bravo scusa è troppo bello se tu hai 15 anni giusto ok ti chiami sorin sorin veramente sì sì sorin spiegami il nome che ormai sorin che nome è ben sentito però è bello grazie nome normale normale lui apprezziamo molto il tuo look se un tipo mi sembri molto aggressivo o no sì sì a volte a volte sì perfetto a 15 anni io sono proprio curioso di capire un po di cose di te mi fai capire in che senso nel senso che mi devi dire un po di cose nel senso chi sei che cosa fai nella vita cosa vuoi diventare se sei fidanzato è quello sì scusa la domanda è chiaro è chiaro che uno è chiaro che è fidanzato allora cosa fai studi sì sì studio gioca calcio ruolo attaccante non avevo dubbi quanti gol hai fatto quest'anno non li ho contati addirittura tanti una trentina sì sì abbiamo una promessa del calcio quindi vabbè allora quindi studi giochi a calcio cosa studi ehm sale a barman sì bar tanto sì imparare qualcosa imparare qualcosina tanto tu hai già la carriera da calciatore avviata o no speriamo chi è il tuo calciatore preferito che con come tu vorresti diventare come punto di domanda basta diventare calciatori non conta questa è una bella risposta tanto anche il più quanto prende tanto vabbè tu dove sei a Romania a Romania dove vivi a Trieste Trieste vabbè ti piace come città sì sì perfetto allora guarda lui è uno dei miei preferiti è un ragazzo a posto fatti vedere guarda anche bello in forma parliamo della tua vita sentimentale la tua amorosa sei fidanzato sì sei felice sì sì molto da quanto tempo sei fidanzato quasi tre mesetti quanto tre mesetti però piace sì sì sei innamorato sì sei innamorato sì però più che aggressivo mi sembra anche un po' dolce come ragazzo romantico no deve deve un ragazzo deve essere romantico vero vero vedi guarda quante ragazze già sta dicendo ma che bravo va bene dai ben arrivato al mister topolini senti quella telecamera adesso ci puoi dire no quello che vuoi puoi anche salutare tutti coloro che ti seguiranno vai saluto tutti quelli che mi stanno guardando mia mamma tutti la tua amorosa come si chiama danza eh danza bel nome è bella come te sì bravo ok allora in bocca a lui grazie promettimi che ti diverti sì mi divertirei ok